il problema è posto una storia d'amore duratura si basa solo su emozioni stupore e meraviglia la storia d'amore con i tuoi clienti si basa sull'emozione di uno slogan e sull'effetto wow di un istante bisogna saper distinguere hai realizzato un'idea fantastica che diventa un prodotto un metodo un servizio allora lo devi comunicare subito con grande emozione devi farlo sapere a tutti devi essere il primo a farlo perché hai bisogno di una campagna marketing che mostri a tutti il botto che hai preparato vuoi costruire una relazione stabile duratura nel tempo con i tuoi clienti vuoi conquistare nuovi clienti attraverso la costruzione di un rapporto continuativo allora hai bisogno di mostrare i sentimenti che caratterizzano quello che fai hai bisogno di una storia lo storytelling è per sempre